ciao ragazzi buonasera stavamo prima io cercavo di far partire la diretta e Sergio ha detto faccio io e a una mano ho detto tre metri è così allora bene bene sono contentissimo guarda questa esperienza è stata una delle cose più difficile però anche delle cose più belle cioè non lo so mi sento contentissimo del mio percorso era un compo volo cose no e quindi sì 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 e quindi va come va sono contentissimo voglio primo ringraziare te per questo non lo so io ringrazio te io ti abbraccio tutta la vita ti abbraccio lei però a parte che secondo me porta fortuna Sergio bello però mi dà l'idea proprio di casa di famiglia Sergio siamo già famiglia davvero davvero è vero oggi tra l'altro ce ne andiamo presto la facciamo durare poco la diretta perché sei tra i primi non non so come si può dire si che dava tra i primi credo a capirsi veramente no stai scherzando bello invece perché se sei tra i primi sali bello si va l'ultimo invece dopo stasera che si fa dopo stasera dipende che succede magari è una bella dormita no 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 sono contento dormita con chi da solo 8 contatti o contatti di chi contatti tatti tatti già si scordava di tatti fortuna per piacere portatecelo subito tatti anche non sa pure io voglio tatti bello eccolo ecco ecco sto un po io lo porterei sul palco magari non so non ho provato non voglio essere disqualificato la ultima sera salutiamo mutati che poi tra l'altro io dopo farei vedere dove siamo oggi siamo la mia stanza oggi siamo nella stanza di sergio è un letto enorme enorme e dopo infatti secondo me chiudiamo la diretta buttandoci sul letto riesce a farti un addormitino no no guarda ieri sera ho provato ho fatto tipo due due ore spero cioè è che mi dormitavo mi alzavo così è un po' così dopo c'è un rumore se li sente la gente però guarda è bello così non obbligo ma che numero di scarpe hai? 51 e mezzo no vi prego portatemi un paio di scarpe di sergio ragazzi le sto vedendo una non ci posso credere non ci posso credere 51 e mezzo di scarpe non è possibile è vero ma copri tutte le camere quasi infatti guardavo di lì a terra ci sono delle scarpe quanto cavolo sono grandi eh sì infatti quello in valigia ci metto due già già è piena la valigia ma riesci a trovarle o volete le fai fare? no guarda qui Roma così così qui salveremo veramente hai ragione hai ragione ho detto a Roma no 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 lo so lo so no scusa scusa ho detto a Roma dove l'ho trovato ho trovato due due volte le scarpe però le scarpe come che a me piace sono o a Londra o in America si 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 e te le fai te le fai portare? si 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 questi sono di Londra l'ho comprato belle che questo sono un po' tipo no snicker 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 ecco 51 e mezzo è una roba pazzetta hai fatto il buttafuori tu? si si ho fatto il buttafuori il primo anno di college l'università mi piaceva facevo non ero cattivo io ero quello buono non facevo non facevo il lavoro bene secondo me sei meno no 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 infatti quasi mi hanno detto tante volte che ho smettito di sorridere o ciao e quindi è vero perché tu sorridi sempre sei ho detto cioè io risposto sempre a loro non non è per forza devi devi cioè per essere serio o cattivo devi tenere sempre la faccia così storta ma magari essere con il sorriso è serio è una cosa potente quindi è figo senti che ore e che ore sono perché veramente dei ragazzi dovete sapere che poi Sergio è in un albergo che è collegato all'Ariston direttamente sei e mezza sono le sei e mezza io direi che di lasciarlo in pace va bene perché stasera è l'ultima sì e io ho fatto in tutti questi diari negli ultimi appuntamenti ho fatto dei ringraziamenti perché sono stato molto felice di aver trovato delle persone molto carine grazie anche tu ragazzi lui è troppo buono nel senso che fai complimenti però merita tantissimo e fatti tante belle cose infatti io non ne faccio spesso di complimenti ti devo dire la verità nel tuo caso veramente mi fai sentire a casa che è una cosa che mi capita mi capita veramente grazie ti voglio proprio bene perché anche io mi porti fortuna infatti sì spero spero che ti porti tantissimo fortuna anche mi hai letto tanta fortuna fortuna sei sempre stato anche si vede su the diary le giorni che non lo facevo tu mi hai dato non lo so un po' di serenità e quindi ti ringrazio grazie tante anche a voi voi siete stupendi manda tanti bacini non lo so non leggo che cosa dicono adesso questo saluta mi ti chiede ciao 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 di dove sei no si è bloccato prende pure male però noi io io mi butterei sul letto ci buttiamo sul letto di sergio ne chiudiamo così andiamo tanto poi arrivi con la mano si 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 andiamo ciao ciao